Edizione straordinaria del TG dell'open source, è stato oggi ufficializzato da parte di Mark Shatterway il nome in codice della prossima release di Ubuntu che vedrà la luce ad aprile del 2013. Ubuntu 13.04 si chiamerà Ubuntu Raring Ringplay, ma la domanda che tutti quanti ci stanno ponendo in questo momento è, che diavolo di animale è Ringplay? Sapete qualche cosa? A voi la parola. Ciao!